L'Italia uscì dalla seconda guerra mondiale devastata e in condizioni di grande povertà. Occorreva ricostruire tutto e prima di ogni altra cosa era necessario ricostruire le istituzioni, lo Stato. Fu indetto un referendum perché gli italiani e per la prima volta anche le italiane scegliessero la monarchia o la repubblica. Il 2 giugno del 1946 nacque la Repubblica italiana. Il referendum decretò anche l'istituzione di un'assemblea costituente per scrivere la nuova Costituzione. Questa entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Così inizia la Costituzione italiana, frutto della collaborazione di tutte le forze politiche antifasciste, unite da un'idea comune di nazione conforme al nuovo spirito dei tempi. La Costituzione è un testo molto bello perché ci insegna a vivere nel rispetto reciproco, nella tolleranza, nella solidarietà. Se un giorno avrete voglia di leggerla vi consiglio di partire dai primi articoli, quelli che contengono i principi fondamentali. Se pensate al dramma della dittatura appena trascorsa, alle leggi razziali, agli orrori della guerra e all'odio che c'era fra gli stessi italiani, ebbene, troverete la Costituzione a un testo commovente, pieno di alti e nobili principi, un testo che ci parla di diritti inviolabili dell'uomo e di pieno sviluppo della persona umana, un testo che ripudia la guerra e che promuove la cultura, un testo che ci insegna perfino ad amare il nostro paesaggio e a tutelare il nostro patrimonio storico. Nel 1946 il capo del governo italiano Alcide De Gasperi, al tavolo dei negoziati di pace di Parigi, ottiene l'appoggio americano, collocando l'Italia nell'Europa divisa della guerra fredda nell'area di influenza statunitense. Qualche anno dopo il nostro paese entrerà a far parte della Nato. Alle elezioni politiche del 1948, che elessero il primo Parlamento della Repubblica, il fronte antifascista che aveva governato dalla fine della seconda guerra mondiale, si ruppe. Nel corso degli anni 50 e 60 l'Italia vive il cosiddetto miracolo economico. Le infrastrutture, cioè le strade e le ferrovie, vengono ripristinate, la disoccupazione cala progressivamente e l'industria fa grandi progressi. Vengono anche predisposti dei piani per l'edilizia, si vuole consentire a tutti gli italiani, soprattutto a quelli in movimento verso le aree industrializzate, di poter acquistare una casa. E questo quartiere di Bologna, il pilastro, nasce nel 1962. È il frutto delle politiche per la casa diffuse in quegli anni. E questo, come tanti altri quartieri delle città del Nord Italia, accoglie anche numerose famiglie partite dal sud, ancora arretrato, in cerca di una nuova vita in seno al nascente benessere. Purtroppo il fenomeno dell'immigrazione interna resterà a lungo fonte di tensioni generate dal pregiudizio. La vita della gente cambiava molto in fretta ed iniziava a somigliare sempre di più alla nostra. Pensate per esempio alla televisione, che fece la sua comparsa nelle case degli italiani nel 1954. Nel 1954 cominciarono ad andare in onda in Italia le prime trasmissioni televisive. La TV si rivelò un potentissimo strumento di aggregazione e ridiffusione di nuovi modelli di vita, ma rappresentò anche un supporto per il superamento di uno dei più gravi problemi del tempo, l'analfabetismo. Seguendo la TV tutti potevano imparare il corretto italiano. Nel 1963 fu attuata inoltre un'importante riforma scolastica, con l'istituzione della scuola media unica, obbligatoria ed uguale per tutti. In quegli anni il cambiamento era inarrestabile. Nel 1970 fu introdotta la legge che ammetteva il divorzio. Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia stabiliva la parità fra moglie e marito. E nel 1978 fu introdotta la legge sull'aborto. Gli anni 60 furono anche gli anni della protesta giovanile. Le nuove generazioni diedero voce ad una protesta sociale e politica. I movimenti studenteschi spesso si affiancarono alle proteste degli operai. Queste tensioni raggiunsero il culmine nell'autunno del 1969. Era il cosiddetto autunno caldo. La mobilitazione operaia scatenò duri scontri e alla fine ottenne alcune importanti garanzie per tutti i lavoratori. Ma il clima di conflitto che si era instaurato in quegli anni produsse anche il fenomeno del terrorismo che insanguinò un intero decennio. Erano gli anni di piombo. Il 12 dicembre del 1969, alle 16 e 37, all'interno di questo edificio che ospitava la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, esplose una bomba che uccise 16 persone e ne ferì moltissime altre. Fu uno degli attentati terroristici più feroci di quegli anni. Le indagini, molto complesse, misero in luce una complicità fra i gruppi di estrema destra e alcuni esponenti dei servizi di sicurezza italiani. Contemporaneamente si sviluppò anche un terrorismo di estrema sinistra che intendeva abbattere il sistema capitalista utilizzando la lotta armata. Nel 1978 un gruppo chiamato Brigate Rosse rapì Aldomoro che era il presidente della democrazia cristiana, il partito di maggioranza. Il rapimento venne realizzato alla vigilia di un accordo che l'ADC stava stringendo con il PCI, il partito comunista, il cosiddetto compromesso storico. Le forze politiche non trattarono con i terroristi e così, dopo una lunga prigionia, Aldomoro venne assassinato. Ma quello fu un duro colpo per il terrorismo. Lo Stato aveva dimostrato la sua compattezza. Con la conclusione della guerra fredda alla fine degli anni Ottanta gli assetti e le prospettive politiche dei partiti cambiarono. In particolare il partito comunista si trasformò nel partito dei democratici di sinistra. Ma sui partiti italiani stava per piombare uno scandalo senza precedenti. Nei primi anni 90 viene infatti scoperta una fitta trama di illeciti in cui sono coinvolti molti personaggi della politica. Era scoppiata Tangentopoli. Il vuoto politico lasciò più spazio alla criminalità organizzata, alla mafia, alla camorra. Sono stati molti i servitori dello Stato, prefetti, poliziotti, magistrati, carabinieri, che hanno combattuto coraggiosamente la loro lotta contro le mafie, ottenendo risultati eccezionali. Questo servizio costò loro la vita. Alla fine degli anni 90 il panorama politico era ormai cambiato. C'erano nuovi partiti e l'Italia, dopo un grande sforzo di risanamento, partecipò da protagonista ai progressi dell'Unione Europea e adottò la nuova moneta comune, l'euro.